Buonasera ragazzi e benvenuti qua con un nuovissimo video, oggi siamo tornati su Fortnite e girando un po' il web ho notato una cosa molto molto carina Come sempre ragazzi lasciate un bel pollicione in su per sostenere la serie di Fortnite così da portare nuovamente altri video del genere Detto ciò ragazzi da come avete detto dal titolo oggi siamo qua per vedere come sarebbe l'opzione questa modalità qui dove ognuno di noi si può fare la sua skin personalizzata Cioè stupendo provate ad immaginare che ognuno nella sua skin ti fa i capelli come vuoi e ti metti la barba il colore come vuoi questo quest'altro come se fosse tipo un gioco single player sai che ti fa il tuo personaggio Ovviamente ho visto vari video su YouTube e chi diceva un concept chi diceva potrebbe arrivare chi diceva tante altre cose noi oggi siamo qui a vederlo vedere come funziona E fatemi sapere voi nei commenti se vi piace se potrebbe essere una figata se ci starebbe secondo me sì ho visto qualche spoiler non tutto ma andiamo a vedere adesso tutto bene insieme Ok già qua possiamo scegliere se maschio o femmina già bellissimo si va avanti E c'è tutto cioè guardate vogliamo il capello così andiamo a vedere i capelli vai stile capelli Ma dai Gesù Cristo Ma che è questi capelli comunque vedete ognuno si sceglie il suo tipo di capello il colore Vedi ora lo sta cambiando Pure questo cos'è il capello Pure il capello ragazzi ovviamente ci sono io sopra allo schermo ma si capisce Cioè tu vai a selezionare i capelli il cappello le braccia il petto le gambe tutte le varie cose e te lo modifichi come vuoi te Come stiamo anche vedendo a schermo vedete le gambe uno va guarda tac tac Si fa la combinazione che più gli piace ecco perché ragazzi qua sopra questa qua è la faccia Questo è un po' il menu diciamo poi sicuramente nel caso sarà fatto meglio Però la cosa che a me è piaciuto di più poi aspetto sempre i vostri messaggi commenti qua sotto che vi leggo a tutti La cosa che piace più a me dicevo è proprio la cosa della faccia vedete che puoi metterti i capelli che vuoi il colore e tutto Poi il corpo è quello secondo me un po' meno però Però potrebbe essere ragazzi una cosa che se viene introdotta è molto carina Che ognuno si usa la sua skin che vuole stai lì tranquillo Poi quando ti stufi vai lì hai la tua personalizzata non ti dico che ne puoi avere Mille Te ne fai due Un maschio e una femmina che ogni volta che vuoi ti cambi i capelli Il colore te lo fai come vuoi e vai in game Così da non annoiarti sempre con le stesse skin E poi sarebbe anche carino Ora queste sono mie idee Che poi pian piano con gli aggiornamenti Introducano altri capelli Magari altre barbe Tante altre cose capito che le skin magari non hanno Ma grazie a questo menu qua Puoi farti i capelli magari sparati Il ciuffo e questo E più si va avanti più ne mettono di più belli Più si aggiorna ecco qua Sarebbe molto molto divertente Detto ciò ragazzi Questo qua è stato un video un po' così Un video news Aspetto i vostri commenti Aspetto i vostri mi piace qua sotto Mi raccomando sfondatelo Non devo aggiungere nient'alto Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Attivate la campanella ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Bella a tutti ragazzi